Buon sabato mattina, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV per la rassegna stampa del sabato. Tutto pronto sul noto touchscreen, i giornali quotidiani ed edizione locale sono pronti però procediamo come sempre per ordine. Vediamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi sabato 30 gennaio, Santa Giacinta Marescotti religiosa. Il sole è sorto alle 7.28 e tramonterà alle 17.15. Le giornate si incominciano ad allungare come vedete dagli orari di tramonto e del sole che sorge. Le temperature in questo momento ve le faccio vedere perché sono interessanti. È una temperatura a doppia cifra, sono 10.06 in questo momento. Quindi capite che sicuramente non è proprio una temperatura stagionale nella media. Sabato 30 il cielo è sereno e poco nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne. Vedete anche lungo la fascia costiere nel tardo pomeriggio ci sono insomma delle foschie presenti. La simbologia è evidente nella cartografia della protezione civile. Bene, vediamo anche i giornali. Poi naturalmente se volete essere aggiornati anche se le condizioni meteo seguite la nostra pagina Facebook oppure anche il nostro sito nel quale c'è proprio la nostra centralina meteo. Vediamo i giornali. Partiamo dal resto del Carlino di Fano e dall'evento catalizzante per la giornata di ieri per la città di Fano. E non solo, una città di Fano proiettata a livello mondiale grazie a un'iniziativa che ha visto Andrea Bocelli come testimonial. Andrea Bocelli era presente al Teatro della Fortuna insieme a tutte le televisioni, alle testate specializzate. Insomma è stata una mattinata di grande momento di spessore per la lirica. Sì perché il maestro presenta una nuova metodica di apprendimento, si chiama Opera Studio per tutti i ragazzi o insomma coloro i professionisti che vogliono cimentarsi con la lirica a confronto con un maestro e un'orchestra vera e propria. Il celebre tenore al teatro per il progetto che regala respiro internazionale alla città. Registrate la base naturalmente dell'orchestra del maestro consente ai cantanti di esercitarsi con le opere più famose. Il maestro Bocelli è tornato a Fano dopo quattro anni, era stato nel 2012 al Teatro della Fortuna. Continuiamo nelle pagine del resto del Carlino, c'è cronaca, si parla di un furto a Torrette, i ladri hanno agito in tranquillità, sono stati rubati 30.000 euro di merce nel negozio del bazar di Torrette, costumi estivi, insomma maxi bottino, abbigliamento intimo, insomma è stato un furto che ha fruttato appunto un bottino sostanzioso ai ladri. Poi si parla di sanità, in questa pagina ne parla Laura Serra che stringe, striglia con una lettera Ceriscioli e dice ospedale unico sì ma che sia condiviso, serve trasparenza, non riunioni d'elite. La richiesta di Pagnetti, chi è Pagnetti? È il segretario del partito socialista di Fano, Mirko Pagnetti, che dice nel frattempo però i due nosocomi siano pienamente funzionali e quindi siano al servizio della comunità. Ancora rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino Fano, la marcia della pace che si terrà oggi, scuote naturalmente le coscienze, oggi bambini e adulti ricordano le tragedie della migrazione. Si parte dalla stazione ferroviaria e poi si passa sotto la porta della misericordia. Rimaniamo nel resto del Carlino però andiamo a Pesaro, c'è un articolo a doppia pagina, in pagina 2 e 3 si parla di Polizia Municipale, si fa un focus sull'operato della Polizia Municipale di Pesaro, un'intervista con il capo dei vigili Gianni Galdenzi, la rivoluzione del comandante, sarei felice se i cittadini dessero i voti alla Municipale e qui in queste due pagine, sciorinati tutti i numeri che riguardano la Municipale di Pesaro, la Polizia Locale come si chiama adesso, nel 2014 sono stati incassate multe per 2 milioni e 140 mila euro l'anno dopo, 24 mila euro in meno, quindi c'è stata una riduzione dell'incasso per le multe, ma il comandante non sa spiegarsi il perché. L'ennesimo assalto della delinquenza, dei ladri a un'azienda, la Merli Arredamenti, che ha visto in 15 giorni, pensate, ben tre volte i ladri in azienda e sono entrati per l'ennesima volta nella fabbrica di Tavoleto. Sono stati rubati utensili della catena di montaggio, svuotate le macchinette, come vedete, alla ricerca di soldi, le macchinette quelle che naturalmente servono per la distribuzione di vivande e bevande ai dipendenti. I controlli, i titolari chiedono che si aumenti la sorveglianza in quelle zone naturalmente periferiche della provincia. Ancora si parla di un istituto nelle pagine del Carlino che ha vissuto vicende sicuramente non facili. Parliamo della Santa Marta, quindi dell'alberghiero e finalmente è pronta la nuova cucina per gli studenti che potranno esercitarsi proprio nella loro funzione primaria per quelli che fanno il corso di cucina. Terminati i lavori di messa in sicurezza, la provincia consegna in tempo il laboratorio. Open day, quindi nella nuova cucina. Vedete in grande parata gli studenti dell'istituto alberghiero che come tutti gli istituti alberghieri sta vivendo in questi anni momenti di grande rilancio. Vuoi anche un po' per le trasmissioni che parlano di cucina senza fare troppi nomi, però sapete tutti quanti che sono comunque un volano e quindi insomma i ragazzi sono anche invogliati per questo a iscriversi e frequentare istituti che magari in passato non lo erano più tanto. Cambiamo testata, andiamo nel corriere Adriatico. La pagina che riguarda Pesaro si parla di piano regolatore, PRG Light, diffida legale contro il comune da ambientalisti e opposizione. Arrivano giudizi durissimi, contestazioni anche sul fronte della legittimità e quindi insomma momenti particolarmente caldi, bollenti addirittura definiti dal corriere Adriatico per quanto riguarda l'urbanistica di Pesaro. La pagina che riguarda Fano invece del Corriere Adriatico parla di carnevale in primo piano, il carnevale che però deve dare lavoro. L'ex assessore Santorelli fa proprio la richiesta dei carristi che vogliono un biglietto per il rilancio di questo carnevale. Quindi ritorna questo feuilleton del carnevale a pagamento sì, carnevale a pagamento no, come ogni anno si ritorna a discutere di questo argomento, ma la carnevalesca ha sempre detto che insomma questo è un discorso che dovrà essere condiviso e dovrà avere un percorso di progettazione. I 5 Stelle invece dicono occorre un altro progetto, quindi completamente rinnovato e l'impoverimento attribuito al mancato ascolto degli addetti, si parla appunto di impoverimento del carnevale. La giunta non è garante della qualità, questo è il loro giudizio sul carnevale di quest'anno. Guardiamo anche la pagina di Senigallia del Corriere, come sempre facciamo, guardiamo anche i nostri amici senigalliesi, le pagine che li riguardano, si parla di piscina, la plafoniera è crollata di notte, c'è stato un crollo nella notte e la squadra di pallanuoto è in difficoltà alla vigilia di una competizione, gli utenti sono frustrati, non otteniamo risposte. Vedete qui tutti i soggetti interessati e sappiamo bene anche noi qui a Fano quanto questa cosa della piscina che a tempi alterni funziona o non funziona, insomma noi abbiamo in tempi passati avuto degli esempi con la nostra piscina. Andiamo nel messaggero, vediamo, vi porto nelle pagine del messaggero di Pesaro, partiamo con il titolo di testa che riguarda l'ospedale. Pronta la roadmap per tutto il percorso, a marzo Ceriscioli avvierà l'Iter, però Gambini vuole sentire di nuovo i sindaci dell'entroterra e Carloni chiede che si faccia chiarezza sui fondi in commissione. Fotonotizia, la muta torna a Palazzo Ducale, mentre il nuovo manager Offretier annuncia grandi progetti per la città Ducale. E poi si parla anche del delitto di Ismaele, nelle pagine del messaggero le indagini sono chiuse, la difesa punta al rito abbreviato. L'avvocato Asole dice che Igli è consapevole ma aspetta solo di conoscere la pena. Vediamo lì i due articoli che sono in evidenza nella prima pagina. Ceriscioli accelera sul nuovo ospedale ma Gambini incalza. Il governatore è pronto a dare il via a marzo per Marche Nord ma Arevasta vuole sentire di nuovo la voce dei sindaci, quindi dell'entroterra, che è stata una voce forte in queste ultime settimane. Chiede Carloni che ci sia chiarezza sui fondi. E poi nella pagina che riguarda anche sempre Pesaro, una vicenda annosa anche questa sulle silicate, un ennesimo incidente in un punto ben preciso nel bivio della siligata. Si ritorna a parlare in quel quartiere di una rotatoria, appunto dopo l'ennesimo incidente. D'Angeli preme sull'opera e la prossima settimana il sindaco Ricci ne parlerà anche con l'ANAS. Ed eccolo qui, i quartieri frenano sul piano spiaggia, ci sono stati degli incontri a Pesaro, a Muraglia il documento è stato bocciato, mentre nella zona centro mare la votazione è finita in pareggio. Dopo la sovrintendenza e le associazioni di categoria, le idee della giunta sollevano altre proteste trasversali. Vi faccio vedere l'ultima pagina, come sempre, che è quella che riguarda nel messaggero Fano, in evidenza la fusione ASET. Osvaldo Scatassi in questo articolo mette in evidenza una ricerca illustrata da Lella Mazzoli, che è direttore della Larica, laboratorio dell'Università di Urbino, che ha messo in evidenza questa ricerca e questi dati, presentati i risultati di questo studio sulla trasformazione dell'azienda. e il 33% degli utenti, questo è uno dei risultati, dei dati che vengono fuori, è favorevole, ma sono in pochi informati sugli effetti, quindi quali sono gli effetti a cascata di questa fusione. Non si sa ancora se i risparmi che ci saranno, saranno usati per ridurre le bollette o per creare, naturalmente, investimenti sempre inerenti all'azienda. E il Carnevale, l'idea del biglietto, fa discutere, anche qui viene ripreso questo concetto dei 5 stelle e della lista Noi Giovani, che sostiene il progetto, ma i 5 stelle dicono non sono d'accordo, giustificato solo, in caso di far pagare l'ingresso al Carnevale, solo giustificato questo pagamento da un vero rilancio del Carnevale. Ma intanto, in attesa della seconda sfilata di domani, sarà un sabato di musica e di balli, appunto, l'Interland, non solo Fano, è avvolto da questa atmosfera carnascialesca, quindi fioriscono le iniziative nella giornata di oggi anche nell'Interland, ma domani ci sarà il secondo grande corso mascherato e Fano TV, che è la TV ufficiale del Carnevale di Fano, vi darà ancora una volta un focus su questa giornata, con una diretta la mattina e poi lo speciale nel pomeriggio. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, naturalmente, sempre il sito e sempre la pagina Facebook per essere aggiornati in tempo reale. Grazie, buon sabato a tutti voi e buon Carnevale a tutti. Grazie.